Musica Buongiorno e benvenuti a Mattino 6, questa è la rassegna stampa di venerdì 26 luglio. Non perdiamo tempo e andiamo a vedere subito cosa è successo nel mondo in Abruzzo secondo i quotidiani più popolari. Partiamo appunto con i quotidiani abruzzesi, in particolare il centro. Il caldo fa due vittime spiaggia, a Francavilla muore l'ex senatore De Cinque, a Montesilvano perde la sua vita un turista. Ma anche la politica nazionale, gelo tra Conte e Salvini sulla nuova manovra. È l'ora del grande gelo a Palazzo Chigi, tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sulla manovra tra Cinque Stelle e Lega e Premier per ora non c'è sintonia. Al centro la fotonotizia è dedicata alla sanità, Abruzzo così cambia la sanità, pronta la nuova rete ospedaliera, ripartono i trapianti anche di cuore. Vediamo invece questi tre trafiletti dedicati a Pescara, cantieri in città, ecco i lavori da realizzare. Poi ancora sul caso dei vigili della municipale e della loro sede che era stata trovata presumibilmente vuota dal consigliere Foschi. Infatti il centro titola il video Blef e ancora Pescara, piano mare pulito, al via i controlli su tutto il fiume. Ma anche una parte dedicata alla festa di Sant'Andrea che comincia oggi fino a lunedì. Andiamo avanti, andiamo a vedere la pagina del centro dedicata a Chieti, Lanciano e Vasto. Malore in spiaggia, muore De Cinque, Francavilla, l'ex senatore Teatino si accasce in mare e aveva 83 anni, politica in lutto. Ma ancora Chieti picchia in strada l'amante della moglie, ha preso a pugni in faccia l'amante della moglie, è successo ieri nel parcheggio della stazione ferroviaria un uomo di 35 anni che vive a poca distanza e finito all'ospedale con i denti spaccati. E a Casoli, tabaccheria devastata, caccia e ladri. E a Vasto, giovanotti, tappa a rischio, ecco la verità sulla tappa del Giova Beach Party che probabilmente non si farà più a Vasto e che forse si farà a Pescara. Andiamo avanti con la pagina dedicata alla provincia di Teramo. La stazione non si può arretrare. Teramo, il comune non ha più in casa i 600 mila euro per realizzare il progetto globo. E ancora Pineto, accoltellata da un folle, lo Stato paghi. Otto anni fa venne accoltellata da un folle che la ridusse in fin di vita. Oggi una donna 55enne di Pineto cita lo Stato in tribunale per chiedere il risarcimento dei danni. E a Tortoreto, un giuliese di 18 anni, ha sparato in aria durante una lite. Mentre ancora Pineto denunce contro i lavori inutili anti-erosione. Andiamo avanti per il centro, la pagina della provincia dell'Aquila. Tornano i vincoli nei centri storici. L'Aquila, ricostruzione, il tar raccoglie il ricorso dei beni culturali e boccia il comune. L'addio a Cecilia, tra le lacrime della Croce Rossa, suono di sirene e tantissime tute rosse. Così è stata salutata Cecilia Marottoli, la 23enne studentessa e volontaria della Croce Rossa, ai funerali nella stracolma chiesa di San Silvestro. E ancora, d'Avezzano, il giudice lavori sul ponte A25 a rischio sisma, che è uno appunto dei tratti più a rischio della nostra regione. E nella Marsica i testimoni di un processo sono stati minacciati. Andiamo avanti con il messaggero. La pagina abruzzese apre anch'essa con il caldo che uccide, due le vittime. Mallori fatali ieri per una turista romana ottantenne sulla spiaggia di Montesilvano e per Pescara, trovato senza vita nel suo appartamento a distanza di giorni. Ma anche l'ex senatore De Cinque, morto a 83 anni. E ancora questa fotonotizia dedicata all'orso in fuga in Trentino, che potrebbe essere accolto a Scanno. Proseguiamo con la sanità sulla prima pagina del messaggero. Ospedali spunta un piano bis, aperture per Vasto e L'Aquila. L'assessore Verì cerca di arginare le polemiche in commissione. Anche qui uno spazio dedicato al caso dei vigili. Dosserri in procura, sul video pirata girato al comando. Una relazione al sindaco e un'altra inviata alla procura. Si vedrà con quali valutazioni e con quali effetti in relazione al discredito procurato a danno del corpo della Polizia Municipale di Pescara. Corrono su un doppio binario le indagini avviate dopo il video denuncia rivelatasi falsa. E proseguiamo con la città, il quotidiano della provincia di Terramo, che anch'esso apre con la sanità. Ospedali, ecco cosa non cambierà. Presentato il piano di ridefinizione della rete ospedaliera a Terramo, tutto procrastinato al 2021. Ma ancora emergenza a Roma. Marsilio dice no ad altri rifiuti della sindaca Raggi che presumibilmente sarebbero dovuti arrivare in Abruzzo. La fotonotizia è dedicata all'erosione delle spiagge. Denunce sulla sabbia, quattro colpi di pistola sul lungomare e degenera rissa tra ragazzi, caccia alla pistola in mare. E anche una notizia di cronaca da Martinsicuro, accoltellato a casa del trans, grave il 36enne. E anche il progetto Ricci, pubblicheremo tutte le lettere del gesuita triano Claudio Acquaviva. E adesso andiamo a vedere invece quali sono state le principali notizie secondo i più popolari quotidiani nazionali. Iniziamo proprio dal Corriere della Sera che in prima pagina titola Governo, il richiamo del colle, Salvini Di Maio, tregua armata e sul decreto sicurezza Fico esce dall'aula. Caso russi ancora, ecco le mail tra Viminale e Ambasciata. E l'editoriale in Europa da soli non si vince a cura di Sabino Cassese che mette in guardia dall'isolamento dell'Italia in Europa. E qui una notizia di cronaca, naufragio in Libia, sono 150 i migranti che sono morti in mare. Naufragio a largo della Libia sarebbero 150 appunto le persone morte che viaggiavano a Calcate su gommoni che si sono rovesciati, altrettante sarebbero state salvate e riportate nel paese nordafricano. La denuncia è dell'alto commissariato dell'ONU per i rifugiati. Andiamo più in basso. Crescita la spinta di Draghi. Mario Draghi traccia la strada della BCE prima di passare la mano alla presidente designata Christine Lagarde. Si va verso una ripresa degli stimoli all'economia con un possibile ritorno al quantitative easing e tassi ancora ai minimi per un lungo periodo. Così si conclude la presidenza di Draghi alla BCE. La fotonotizia invece è dedicata a Niccolò Ciatti, il ragazzo ucciso in Spagna. L'assassino secondo gli inquirenti rimane uno solo. In fondopagina invece il giorno più caldo di sempre in Europa. In Francia e Belgio temperature mai così alte, ma da domani arrivano i temporali. Adesso leggiamo la Repubblica. Governo sotto zero. Il leghista sprezzante, quello che dice Conte, non mi interessa. Mattarella, collaborate per il Paese. Dalla Camera il primo via libera al decreto sicurezza Bisma. 17 grillini non votano e Fico esce dall'aula. Fallimentare confronto fra i vicepremier, TAV e Moscopoli divisi su tutto. Continuano appunto le divisioni in seno al governo. E qui vediamo a centropagina Sala. Mai con Di Maio, ma dopo il voto sì a un'alleanza se il Movimento 5 Stelle cambia. Quindi il sindaco di Milano non esclude che ci possa essere un'alleanza con i 5 Stelle. E anche qui il clima, con questa fotonotizia della Torre Eiffel e una turista accaldata. L'Europa sopra i 40 gradi. In Francia mai così caldo dal 1873. Allarme in Belgio e Germania. La nuova emergenza climatica rilancia la profezia di Greta Thunberg. Ecco il fatto quotidiano che apre ancora sulla questione del padre di Renzi, Tiziano Renzi. Papa Renzi e Co. non si archiviano. Il GIP stronca la procura di Roma. Il giudice Sturzo boccia alla linea morbida del PM. Aveva ragione il fatto che appunto aveva per primo denunciato il malaffare di Tiziano Renzi. E anche qui, con questo fumetto che vede Salvini come arrestato, la Russia ordina e Salvini vieta gli scioperi per 5 mesi. E ancora uno spazio dedicato dal fatto ai propri lettori, i nostri lettori su 5 Stelle e TAV traditi no democrazia, che appunto parrebbero delusi dai voltafaccia del Movimento 5 Stelle. Ed eccoci al messaggero che apre anche anch'esso sugli scontri tra Lega e 5 Stelle, Salvini e Di Maio, la tregua d'estate. Patto sul governo Maggelo con Conte, il leghista. Di quel che ha detto mi frega meno di zero. Mattarella abbassa conflitti, bisogna collaborare. Sì al DL Sicurezza. 17 grillini non votano e Fico, come abbiamo già visto, esce dall'aula. Anche qui una parte dedicata alla fine mandato di Draghi come Presidente della Banca Centrale Europea, tassi verso il taglio e studia il nuovo QE. Un fatto di cronaca a centropagina, ucciso da una buca a 23 anni, il Campidoglio la ripara dopo. Asfalto dissestato sulla tangenziale est, un mese dopo i lavori. Quindi l'ennesima vittima a causa delle buche a Roma. E anche qui una fotonotizia invece dedicata al Zapata, questo stuntman. Benzina finita, l'uomo volante precipita in mezzo alla manica nel tentativo di attraversarla. E anche qui un piccolo spazio dedicato alla tragedia che è successa ieri nel Mediterraneo. Secondo l'ONU la tragedia peggiore dell'anno. Migranti, l'ultima strage dei barconi, lì 007, il rischio nuovo esodo dalla Libia. Andiamo adesso sul quotidiano libero, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, come consueto un titolo provocatorio, così non ci rompono più l'anima. Meno male vanno in vacanza, dopo tante liti Salvini e Di Maio firmano la tregua, Conte s'adatta all'andazzo e Mattarella manda tutti in ferie. Ora speriamo che il governo non le passi a riempirci le orecchie con le solite stupidaggini. Libero come al solito non le manda a dire e al centro pagina la fotonotizia è dedicata a Marrazzo, che ha tamponato anche la RAI, però Marrazzo è scivolato sui soldi, sul sesso e sul potere aveva già dato. Li mancava questa dopo l'avventura sfigatissima da presidente. E qui leggiamo la questione pensioni. Secondo Libero il Nord paga il 64%, mentre il Sud sfiora solo il 17%. E invece dedica in prima pagina uno spazio anche alla lite televisiva che c'è stata sui canali Mediaset, ieri tra Mughini e Sgarbi a proposito della Lega e dei presunti fondi ricevuti dalla Russia. Ed eccoci al giornale. L'altolà di Mattarella, è questa la mossa del Colle secondo il giornale. Il presidente? Io sono soltanto arbitro, ora basta, liti e strappi con l'Europa. Salvini e Di Maio si vedono, ma escludono il Premier. L'aula snobbata e la fuga sui social, leggiamo qui, per via dei grillini che non hanno votato completamente il DL Sicurezza. E Matteo ora trama per dividere il 5 Stelle. Il Matteo in questione è sicuramente Matteo Salvini che secondo il giornale trarrebbe beneficio dalle divisioni all'interno dei 5 Stelle. E ancora allarme dei servizi, rischi per il corteo notave. Infatti è iniziato il festival Alta Felicità in Val di Susa e attesa una grande manifestazione per questo sabato. E ancora il giornale cerca di spezzare una lancia a favore della sede di Casa Pound. Roma affonda, ma la Raggi se la prende con Casa Pound. Ecco il mattino. Anch'esso, come la maggior parte dei quotidiani di oggi, apre su gli scontri in seno al governo. La tregua Salvini e Di Maio, ma è tensione con Conte. Governo avanti, leghista dalle parole del Premier, mi frega, meno di zero. Mentre Mattarella, litigare è un danno al paese. Non isoliamoci in Europa. Qui un tristissimo fatto di cronaca, morto a quattro anni, alla festa di nozze è aperta un'inchiesta. A Pozzuoli il dramma nella piscina del ristorante, ma in quella struttura era vietato fare il bagno. Mentre la fotonotizia del mattino di Napoli, giustamente dedicata al Napoli, Pepe James Ecardi, il grande intrigo sul mercato per la giovane punta intesa con il Lille, gli agenti da Dela. E anche qui un trafiletto dedicato al Tav, Tav al Sud, unica via per superare i troppi, no, secondo il mattino di Napoli. Ed eccoci al manifesto che apre con la foto di questo balcone stracolmo di persone. La grande strage, titola il manifesto. La più grande tragedia del 2019, con oltre 150 morti e 140 salvati. Le catombe al largo della Libia, mentre il governo gialloverde incassa la fiducia al decreto sicurezza bis contro i migranti e le ONG voluto da Salvini. Fico lascia l'aula assente anche l'affronda dei dissidenti 5 Stelle. Mentre qui una parte dedicata alla geopolitica salta a Sanchez, elezioni più vicine. In Spagna il leader socialista non ottiene la fiducia. Decisiva l'astenzione dei Viola. Proseguiamo. Anche qui a fondopagina una parte dedicata al Tav. I calcoli di Conte e Di Maio sono politici. Secondo Marco Ponti, sul Tav il Presidente della Commissione costi benefici delle grandi opere, attacca Conte e Di Maio. Non è vero che interrompere il tunnel costa più che completarlo. I risparmi sarebbero di oltre 3 miliardi. Il problema è che non farlo costa molto politicamente. Quindi, secondo il manifesto, il Tav potrebbe tranquillamente essere bloccato. Ed ecco il Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico finanziario che apre appunto con la Banca Centrale Europea. Draghi ricarica il bazooka, addirittura titola il Sole 24 Ore. L'economia frena, tassi fermi o più bassi fino a metà 2020. Mentre Christine Legard, secondo Draghi, sarà un Presidente eccezionale. Andiamo più in basso, dove il Sole 24 Ore si occupa anche del piano 5 Stelle, sul taglio da 4 miliardi. La Lega sono pochi. Mentre qui, una notizia di borsa, corre Volkswagen, soffrono Ford e Nissan. Mentre qui, il progetto Italia prende quota l'ipotesi di una nuova proroga. Pesa il nodo delle azioni di Salini costruttori impegno a Natixis. Continuiamo la nostra rassegna stampa con il tempo. Salvini fa boom, perfino in borsa. Da quando è il governo? Piazza Affari è ferma, ma le sue azioni personali volano del 21,88%. Il leader leghista ha investito i suoi risparmi nell'energia, acquistando titoli Acea, A2A e Enel. Quindi, secondo il tempo, l'economia è ferma, ma Salvini fa bene i suoi investimenti. La fotonotizia è dedicata alla sede di Casa Pound e il problema decoro urbano l'amo risolto. E mo' che altro c'è rimasto da fa? Chiedo scusa per il romanesco. La raggi sfratta la scritta, ma non Casa Pound. E qui una parte dedicata a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che fa un appello dicendo che è la nuova casa del centrodestra. E ancora invece parliamo del PD. Zingaretti ci pensa e in regione li saltano le nomine. Che batosta. Secondo il tempo, la Commissione Sanità boccia tre direttori generali esterni, indicati dal governatore per le ASL. Siamo arrivati alla stampa. Salvini snobba Conte. Mattarella al governo. Basta con i conflitti. Il caso Lega-Russia preoccupa gli USA. Di Maio ricevuto dall'ambasciatore. Mentre qui vediamo un caso preoccupante, rifiutato perché autistico, dei genitori avrebbero abbandonato il figlio di sette anni perché appunto autistico. Caldo record in Europa, i roghi assediano i ghiacci dell'Artide con questa inquietante fotonotizia. Ed ecco il secolo XIX che apre con la sede di Casa Pound. Lo striscione, questo è il problema di Roma che è stato rimosso dalla sindaca Raggi. Virginia disperata, titola del secolo. La Raggi è alla ricerca di appigli contro Casa Pound. Squadrone per togliere una scritta e un'insegna. Ma la sede rimane al partito di estrema destra. La verità, diretto da Maurizio Belpietro, apre sulla politica. Salvini e Di Maio firmano la tregua per sventare il ribaltone del colle. Le parole di Mattarella e di Conte hanno fatto mangiare la foglia ai due vicepremie. Sono in corso manovre per allestire un governo senza lega e senza capo dei 5 Stelle. Meglio proseguire con questo, almeno per ora. Secondo la verità di Belpietro, e qui Fidi Toscana in rosso, il presidente si premia, la Corte dei Conti accusa la società che concesse una discussa fideussione alla famiglia dell'ex premier. E qui sul caso Bibbiano, il garante per l'infanzia sta col sistema Bibbiano, nominata dal PD. La Garabini tifava pubblicamente per Foti e la Anghinolfi. Ed ecco l'avvenire, il quotidiano cattolico. Morti di guerra, due barconi si rovesciano a largo della Libia, oltre 150 i dispersi in mare, il più grande naufragio dall'inizio dell'anno. I superstiti sono stati riportati in Africa. La fotonotizia è dedicata all'ambiente inquinato, che scontano i più poveri, mentre la politica è solamente a centropagina. E adesso vediamo rapidamente le prime pagine dei quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport. Mercato al Pepe, De Laurentiis può scatenare il dominio, il Napoli ha un passo dalla stella del Lilla. Icardi sempre più Juve, l'Inter chiuderà Dzeko e non molla Lukaku. Qui il Milan, Piatek. Milan io non ho paura nemmeno del numero nove, voglio Champions e trono del gol. Piatek è appunto carico per il campionato che sta per iniziare. Vediamo il Corriere dello Sport, anche qui il Napoli a centropagina, sul possibile acquisto di Pepe, che pare che l'accordo sia stato raggiunto per 85 milioni. Mentre Nainggolan forse andrà al Cagliari, il giocatore pronto a dire sì, per una scelta di cuore, ma i costi sono alti per la squadra sarda. Ecco tutto sport, la Juve a tre piani, chiesa Icardi Pogba, vi spieghiamo le strategie. Oggi ultimo test in Asia contro una selezione sudcoreana a Seoul. Mentre qui la fotonotizia, che Eurotoro, Belotti sul rigore, Ansaldi e Zaza nell'andata del secondo turno per eliminare in Europa League Dominio Granata, nonostante l'AFA e le zanzare di Alessandria, il primo agosto ritorno in Ungheria, Cairo esulta e promette rinforzi. Adesso siamo giunti al momento del meteo, vediamo come saranno le temperature per questo venerdì e subito dopo la pubblicità torneremo a sfogliare i quotidiani abruzzesi. A tra poco. Buongiorno e bentornati alla rassegna stampa di Mattino 6. Andiamo a sfogliare i quotidiani regionali partendo dal centro. Ecco la pagina di Pescara. Super Maratona. È così che rilancia il turismo per 50 km sul Gran Sasso. Domenica la gara più dura con questa fotonotizia del percorso. Mentre qui l'orso M49 in Abruzzo no grazie perché il ministro dell'ambiente Sergio Costa del Movimento 5 Stelle è comparso in t-shirt su Facebook con la scritta eloquente io sto con Papillon e quindi probabilmente l'orso non troverà rifugio in Abruzzo e potrebbe essere abbattuto. Vediamo adesso la pagina abruzzese. Abruzzese il festival delle vacanze svela le nostre montagne. Tre giorni di seminari, escursioni, incontri nel cuore del Parco del Gran Sasso e i giovani migranti accolti in Abruzzo diventano le guide per i turisti. Mentre la costa, vediamo qui, fondopagina, presenta i prodotti tipici domani a Montesilvano. Ecco qui la pagina abruzzese del centro. Bussi, commissione di inchiesta sulla discarica, la proposta di Giovanni Legnini, la regione deve vigilare sulla salute dei cittadini e sull'ambiente. Continuano appunto le conseguenze dell'inquinamento nella zona di Bussi. 6 milioni per 20 comuni abruzzesi. I portavoce 5 Stelle alla Camera serviranno a riqualificare gli impianti già esistenti e consentire ai ragazzi la pratica agonistica. 6 milioni quindi dedicati allo sport. Ospedali. Ecco l'atto che ricrea in Abruzzo la rete dei trapianti. Ancora sulla questione sanità. Il cuore a Chieti, i regni all'Aquila, le stamilali a Pescara, la bozza del nuovo piano salva penne, popoli e sulmona. Ed ecco la pagina di Pescara. Rivera Sud, Sottopassi e Pineta. Ecco tutti i cantieri dell'estate. sul lungomare vanno ultimati piazza a retrodunale e ingresso del teatro. Mascia vuole accelerare. Presso il nuovo asfalto sotto i tunnel della litea ferroviaria a metà agosto la Viori in Viale D'Annunzio. Quindi si prospetta a Pescara un'estate dove il traffico potrebbe essere congestionato. Continuiamo a Pescara torniamo sul caso del video che l'assessore il consigliere comunale della Lega ha girato nel comando della municipale che secondo lui era deserta. Maggitti deserta la commissione il video blef finisce in procura. Centrosinistra e Movimento 5 Stelle accusano Foschi di aver prodotto un falso e chiedono le sue dimissioni mentre il sindaco Masci non prende posizione. Vediamo meglio nel servizio. Adesso il servizio sul caso. Dopo il blitz del consigliere comunale della Lega Armando Foschi nella sede della polizia municipale di Pescara e la visita presso il comando del corpo dei consiglieri facenti parte della commissione controllo e garanzia seguita alla divulgazione delle immagini delle telecamere da parte della stessa municipale non si placano le polemiche con il centrosinistra che chiede le dimissioni di Foschi da presidente della commissione sicurezza stigmatizzando il silenzio sulla vicenda del sindaco di Pescara Carlo Masci. E' emerso sicuramente che il comando della polizia municipale è normalmente in sicurezza in quanto le due principali accuse mosse in quel video ovvero che si può accedere liberamente e che l'armeria è incostruita sono infondate in quanto negli orari in cui l'ufficio è chiuso si può accedere soltanto da una porta antipanico che si apre soltanto dall'interno e le stanze di custodia delle armi sono chiuse con due porte blindate di conseguenza noi chiediamo che a questo punto non possa crescerci un impegno da parte del sindaco Carlo Masci a chiedere al consigliere protagonista di questo video un passo indietro perché è stato procurato un'allarme in maniera infondata il video della videotorveglianza dei vigi urbani dimossa che quanto denunciato non risponde davvero in quanto il consigliere è stato accolto da due agenti al comando i vigili sono stati oggetto di un linciaggio mediatico e sui social che non meritano perché l'accusa non sussisse il fatto non sussisse quindi crediamo che il sindaco non possa restare in silenzio in questa guerra fra poteri che si è scatenata dentro il comune il sindaco e il sindaco di tutti deve assolutamente intervenire ieri giustamente gli ufficiali sono stati prudenti su ogni tipo di relazione riguardo l'atto specifico però crediamo che politicamente ci sia un fatto nuovo che dimostra che insomma occorre che qualcuno faccia un passo indietro perché non è più non c'è più un clima di fiducia e soprattutto insomma è evidente che è stato procurato un allarme ingiustificato e il sindaco non può che chiedere di fare un passo indietro torneremo su questa vicenda ma ora parliamo del comune di Pescara è stato nominato Vespasiano neodirettore generale mentre Dezio è capo di gabinetto approvata la riorganizzazione della macchina amministrativa e ancora Pescara parte l'operazione Mare Pulito via i controlli su tutto il fiume riunione tra i sindaci dei comuni che si affaggiano sul corso d'acqua con i tecnici dell'arta e dell'aca il sindaco Masci realizzeremo un piano di monitoraggio senza precedenti per scoprire gli scarichi abusivi in questa maniera il sindaco spera di risolvere anche la questione dell'inquinamento del mare e che intanto leggiamo qui Mare stoppa i bagni in via Leopardi un altro divieto di bagnazione a Pescara a fondo pagina vediamo lo show Pausini Antonacci che si è svolto l'altra sera allo stadio Adriatico sequestro di merce contraffatta inchiesta su cinque anni di concerti la finanza ritorna in comune e ancora il meteo a Pescara bollino rosso per due giorni le temperature saranno altissime caldo torrido fino a domani decine di bambini all'ospedale due piccoli sono stati ricoverati in pediatria per sindrome da negamento e svenimenti sovraffollato il reparto di geriatria mentre qui vediamo un bagnante che tenta di refrigerarsi alla nave di cascella e ancora Pescara spazio dedicato alla festa di Sant'Andrea che comincia questa sera sul sipario con lo show di Cupido la festa della marina di Pescara continuerà come al solito fino a lunedì e ora vacanze in Abruzzo ecco la guida dei ragazzi disabili l'iniziativa dell'ANIFAS sarà presentata oggi alla gabbianella nel volume facile da leggere la storia dei comuni e adesso Montesilvano malore in acqua muore un turista di 81 anni il banino dello stabilimento Settebello ha tentato invano di rianimare la donna con il collega della bussola e un'infermiera cade da albero paura inviato gli atti la circolazione è stata interrotta per liberare la strada ma per fortuna a Montesilvano Colle nessun ferito e adesso parliamo di degrado in civili scatenati abbandonati ovunque rifiuti ingombranti a Città San D'Angelo degrado e sporcizia in molte contrade gioventù nazionale Fratelli d'Italia servono le fototrappole ed è allarme incontrata a Valle Cupa una voragine si è aperta sulla strada quindi occorre che gli automobilisti prestino attenzione amarezza per il Francavilla calcio nessuna proposta seria per la D Luciani chiederemo alla FIGC l'iscrizione in una delle categorie inferiori salvato il settore giovanile il presidente Putrini sono arrabbiato caduti nel vuoto tutti i nostri appelli all'imprenditoria locale mentre a Pianella anche lì inizia una festa per i Santi Patroni tanti gli eventi fino a martedì ci sono Uccio De Santis e Marco Ligabue Italian in jazz svolte e ron per un'estate super popoli il calendario degli eventi dell'estate di popoli è molto ricco ospedale ecco il caso sulla sanità a penne l'associazione che difende il San Massimo incontra l'assessore Berì è arrivato l'ok da parte della regione e adesso la pagina di Chieti del centro De Cinque muore in spiaggia per un malore l'ex senatore della democrazia cristiana e sottosegretario si accascia in acqua aveva 83 anni oggi camera ardente in provincia e domani il funerale l'ex sindaco di Casoli diventato sottosegretario qui continua la pagina dedicata al senatore deceduto al fianco di Andreotti e Gaspari così arrivo ai vertici della politica e ancora Chieti provincia giovanotti concerto è ancora a rischio ecco le carte sotto accusa vasto dal via libera del sindaco otto mesi fa fino al piano della sicurezza bocciato in retroscena il comitato per l'ordine pubblico biglietti venduti senza certezze infatti pare che siano circa 40.000 i biglietti già venduti mentre oggi ci sarà Mabud a Chieti andiamo a vedere cosa è successo a Teramo il caso di Pineto ferita mentre faceva jogging chiede il risarcimento allo Stato l'uomo che la coltellò e la ridusse in fin di vita non è imputabile perché incapace di intendere la vittima si appella a una normativa comunitaria ma il ministero dell'interno non paga i danni Montorio banchi di cinghiali invadono il centro abitato come capita a volte nelle parti più interne della provincia a rischio l'arretramento della stazione Teramo la somma di cofinanziamento che doveva arrivare dal progetto Globo non c'è più e servono risorse malato di mente terrorizza i cittadini a Tortoreto un cittadino africano che ha perso lo status di rifugiato entra nelle case a atteggiamenti violenti è stato arrestato comuni in festa per l'assegnazione delle bandiere blu oggi a Pineto bandiere blu che potrebbero attirare maggiori turisti per l'estate che è solamente o quasi a metà preso a forbiciate da un trans a Villa Rosa la lama gli perfora un polmone quindi è rimasto ferito un 36enne originario del Kosovo mentre a Tortoreto un giuliese 18enne spari in aria durante una lite tra ragazzi a Pineto doppio esposto sui lavori anti-erosione gli avvocati di Nanna e Passamonte ipotizzano il disastro ambientale interessate procura di Pescara e Corte dei Conti mentre a Villa Ardente intervengono le associazioni per i proprietari di Seisciale servono le scogliere emerse all'Aquila il capoluogo abruzzese il tribunale si è lavori su quel viadotto Avezzano il giudice da ragione al comune di Cerchio e ordina a strada dei parchi di intervenire per la messa in sicurezza del viadotto della 25 mentre ci saranno anche investimenti sulla ferrovia per 6 milioni ad Avezzano i testimoni minacciati abbiamo paura botte e tentativo di avvelenamento alcune famiglie a Bonafede si prendano provvedimenti questi sono episodi mafiosi chiesto appunto l'intervento del ministro della giustizia mentre nella Marsica in Nas nel deposito abusivo di farmaci sono state scoperte ben 3 mila confezioni di medicinali di dubbia provenienze ancora qui la coltellata a un migrante è stato condannato a 6 anni un cittadino abruzzese per tentato omicidio a Sulmona mentre per il 5T molesti nel garage 140 canarini a Sulmona l'ASL è intervenuta e adesso la pagina dello sport di Fulvio show mondiale ora vogliamo l'oro il pescarese decisivo con una tripletta anche nella semifinale vinta con l'Ungheria domani sarà la sfida con la Spagna e ancora la palla a volo tanto entusiasmo e calore per l'Italia di Zaitsev gli azzurri al Palatricalle dopo 9 anni attesi circa 2.400 spettatori per la squadra che fece faville alle ultime Olimpiadi e la goleada Pescara forza 11 ci esco subito protagonista l'esterno offensivo brilla nella seconda amichevole vinta con la Renato Curi angolana ma vediamo l'approfondimento nel servizio di Andrea Canterini prosegue per gradi la marcia di avvicinamento al campionato del Pescara di Luciano Zauri che dopo l'8-1 infitto nella gara d'esordio stagionale alla Delfino Flacco Porto superato a Palena la Renato Curi angolana per 11-0 in evidenza Cisco con una tripletta Ventola e Tuminello con una doppietta in rete anche Tavi Borrelli Zappa e Canute nella sfida con la formazione di Città Sant'Angelo riflettori puntati su Galano e l'ultimo arrivato Palmiero prima dell'amichevole ai nostri microfoni il direttore sportivo del Pescara Antonio Bocchetti ha fatto il punto sul mercato anticipando il probabile ritorno in bianca-azzurro di Riccardo Sottile siamo tanti sono veramente ottimi calciatori quindi per adesso aspettiamo solo Sottile che è un giocatore che è stato qui l'anno scorso ha fatto benissimo quindi per acquisti imminenti aspettiamo lui se non dovesse venire lui è normale che ci dobbiamo guardare per forza in giro Tutino? Tutino lo vogliono un po' tutti è normale a chi non piace Tutino però secondo me è un giocatore che in questo momento ha delle richieste importanti e secondo me Napoli non se ne priverà facilmente potrebbe arrivare la classica ciliegina sulla torta c'è questo ceravolo che è il sogno un po' di tante squadre di Serie B probabilmente anche del Pescara è un giocatore a cui state pensando? A livello di numeri è quasi impossibile sono dei numeri troppo complicati troppo alti per una società come la società di Serie B Però negli ultimi giorni di mercato spesso accadono cose imponderabili? In questo momento come ho detto siamo ben coperti in tutti i ruoli l'unico giocatore che vorremmo fare qualcosa è Sottil è arrivato lui è normale che ci fermeremo in questo reparto adesso l'obiettivo è quello di sfoltire perché siamo incominciati ad essere proprio tanti E proprio anticipato la mia domanda un organico extra large e poi si torna a parlare in questione della possibile partenza di Gaston Brugman con il Parma che ha cedito Stulac e Dezzi e che potrebbe tornare alla carica a Brugman è un giocatore secondo me enorme per questa categoria quindi un giocatore pure di categoria superiore è normale che ci sono degli apprezzamenti da parte di tante squadre soprattutto all'estero però per adesso richieste ufficiali non ce ne sono state quindi il capitano rimane rimane qui a Pescara siamo ben lieti di tenerla ancora per tanti anni perché è un valore aggiunto di questa squadra poi se dovesse avere qualche richiesta che soddisfa sia noi che sia il calciatore è normale che si può parlare ma per adesso non ci sono richieste ufficiali e adesso torniamo sul messaggero per quanto riguarda la cronaca abruzzese il messaggero apre sul caso sanità ospedali spunta un piano bis che corregge il tiro nel nuovo documento dell'assessore regionale Nicoletta Verì aperture sull'emodinamica di Vasto e sui presidi minori come Guardia Grele mentre più in basso torniamo a parlare dell'orso M49 che accoglierebbe la solidarietà della cittadinanza di Scanno il cuore del parco dalla parte dell'orso ma è arrivato appunto come dicevamo prima il no da parte del ministro dell'ambiente Pescara caso vigili relazioni in procura il comandante Maggitti ha preparato la relazione al sindaco mentre una informativa di PG finirà sul tavolo del magistrato intanto il consigliere Foschi autore del filmato smentito contesta ai vertici del comando l'assenza in commissione mentre al comune di Pescara Vespasiano nuovo direttore generale quattro macro aree e obiettivi mirati anche il messaggero ci informa del fatto che inizia la festa di Sant'Andrea tra fede e spettacolo la grande festa dei pescatori prime vittime del caldo nel pescarese malore fatale in spiaggia anziano muore in casa una turista romano ottantenne stroncata da una crisi cardiaca a Montesilvano dove era in vacanza con un gruppo di amici Pescara Porto intromissioni non reati su appunto la questione del porto mentre schiavi in Piazza Unione sono iniziati c'è pericolo per il bastione e adesso star di oggi e grandi di ieri per lo sportore Sambl dal 16 al 19 agosto l'edizione numero 37 gran finale con la novità del premio dedicato alla memoria di Arnoldo Foix e mentre ci sarà anche la sfida tra cover band a Estatica con il rock degli SDC e dei Guns N'Roses vediamo all'Aquila secondo il messaggero il commercio vede la luce e gli affari sono in crescita gli esercenti del centro storico si dicono soddisfatti per i risultati di questo primo scorcio d'estate generale apprezzamento per l'iniziativa che il comune ha organizzato ogni venerdì mentre per quanto riguarda il concenter salvi 500 dipendenti resteranno qui il grande jazz torna in centro storico quinta edizione il 31 agosto e il primo settembre fresu si cambia ma con la voglia di restare Gran Sasso decide di iniziative per il festival torna infatti anche l'open week del festival del Gran Sasso dal 29 luglio al 4 agosto vi adotti nella marsica il giudice dà ragione a tedeschi il sindaco di cerchio incastra il ministero ok del consiglio di stato nel suo comune l'autostrada sia antisismica ora pare che dovrebbero finalmente arrivare i fondi per mettere in sicurezza quel tratto di strada della 25 e a Tagliacozzo il festival di mezz'estate eventi per tutti i gusti quindi saranno tantissimi gli eventi per questa seconda parte d'estate in Abruzzo Chieti malore fatale per De Cinque fu parlamentare DC e notaio l'ex senatore stroncato da un malore in spiaggia a Francavilla aveva 83 anni Luciani Pagano Di Stefano e Melilla uomo d'altri tempi e grande politico esprimono il loro cordoglio Pilkington salvare i 55 esuberi sindacati uniti dopo il tavolo con l'azienda al ministero al centro dell'attenzione il piano industriale di rilancio è pronta la richiesta per la cassa integrazione in deroga il presidente Marco Vecchio esorta all'unità di intenti proseguiamo con a Ortona un altro evento stasera ci sarà Mamud palco in piazza viabilità rivoluzionata a Teramo strade nuove nei piccoli centri il capoluogo resta con le buche Torricella Sicura e Civitella ormai sono un esempio asfalti perfetti immersi nel verde e poi la ciclo pedonale mentre vediamo anche la morte della Rastelli ci sono due indagati per omicidio stradale che riguarda la madre che morì 48enne e nei guai il marito e un pensionato nascondevano la droga nei reggiseni a Giulianova scoperte dalla polizia e continuiamo Giulianova Roseto e Val Vibrata la Lega ricontare le schede alla 13 reso noto il ricorso al TAR proposto dal candidato sindaco sconfitto Tribuiani e per gli avvocati il risultato di una sezione cambia tutto denunciate irregolarità sia per quanto riguarda il ballottaggio che il primo turno nel quale addirittura sarebbero coinvolti tutti i seggi nel comune di Giulianova bonifica trans a coltella un cliente e finita mare l'avventura di un cittadino originario del Kosovo vediamo anche qui a questo punto qualche notizia dello sport grazie al Pescara diventerò grande qui l'ex interista Gabriele Zappa in ritiro ha stupito subito i tifosi io titolare ci proverò con tutte le forze mentre sottil ci siamo 11 gol rifirati all'angolana come abbiamo visto dal servizio precedente a Teramo il via Catanzaro poi Sicula Leonzio in casa il diavolo affronterà la ternana al Bonolis il 17 novembre adesso torniamo alla crotaca della città il quotidiano della provincia di Teramo Marsilio ribadisce il no ad altri rifiuti romani che dovrebbero giungere in Abruzzo il governatore spiega i motivi della scelta in un'intervista a Radio Radio già ricevute ben 70.000 tonnellate di rifiuti romani che sono in Abruzzo fascette sciarpe false per il concerto di Biagio e Laura ancora all'intervento della Guardia di Finanza a Pescara dopo il concerto dei due artisti allo stadio Adriatico mentre anche qui uno spazio per l'ultra maratona che si svolgerà sul Gran Sasso per quanto riguarda la sanità teramana secondo la città resterà quella che già è nel piano di riordino del centro-destra previste le stesse misure varate dal centro-sinistra per la nostra ASL team 10 giorni per decidere sul socio il sindaco d'Alberto di Teramo chiamato alle valutazioni dei requisiti della società prima dell'aggiudicazione e ancora case popolari riforma in odore di incostituzionalità il coro di critiche dei sindacati dell'inquilini contro la proposta presentata dalla regione Abruzzo proprio sulle case popolari sono sfumati i fondi per gli impianti sportivi finanziati sette progetti abruzzesi su undici esclusi quelli presentati per il capoluogo da comune e provincia proseguiamo ancora velocemente corso e ruzzo boomerang per fracassa a Teramo e ancora andiamo sui sindaci che puntano sulla qualità delle acque le amministrazioni abruzzesi che hanno ricevuto la bandiera blu si incontrano oggi a Torre di Cerrano a Pineto mentre a Tortoreto ancora i quattro colpi di pistola sparati sul lungomare da un diciottenne è stata sorpresa spacciare dentro la casa rosa e gli agenti entrano per notificare un'ordinanza e la trovano mentre cedono eroina a una tossico dipendente andiamo velocemente alle pagine dello sport ecco qui c'è un il Teramo si parte a Catanzaro gran finale a Catania a proposito dei sorteggi del calendario vediamo di più nel servizio di Jacopo Forcella sarà lo stadio Ceravolo di Catanzaro il campo di esordio del nuovo Teramo di Bruno Tedino il 25 agosto dunque partenza in trasferta per i Biancorossi che nel nuovo Bonolis una settimana dopo riceveranno alla seconda giornata la Sicula Leonzio ma la partenza è di grande fascino specie nelle gare in trasferta perché alla terza il Diavolo sarà di scena al partegno Lombardi di Avellino la parte centrale del calendario del Teramo non è impossibile ma il finale sarà da brividi perché ci saranno tutte o quasi le big di un raggruppamento che sembra davvero una serie B2 le due gare in casa con la Casertana e il Biscegli appena riammessa tra la dodicesima e la tredicesima saranno il proscenio alla trasferta in casa del Picerno del grande ex Nebil Kaidi il 10 novembre dopo sette giorni sfida ad alta tensione in casa contro la Ternana partita che per la tifoseria Biancorossa ha più del significato dei tre punti ancora una settimana e si va al San Nicola di Bari contro la favoritissima al salto in serie B palcoscenico meraviglioso l'astronave di Renzo Piano costruita per Italia 90 per provare a fare il colpaccio si torna in Abruzzo poi con la regina a far visita al diavolo poi la trasferta calabrese a Vivo Valencia contro la Vibonese prima dell'ultima di andata in casa contro il Catania di Andrea Camplone il 15 dicembre il 26 aprile la chiusura del campionato dunque sarà il Massimino peraltro un Girone C che torna a 20 compagini con la decisione della FIGC di non procedere al ripescaggio della Cerignola dopo il pronunciamento del collegio di garanzia del CONI solo il Bisceglie entra nel raggruppamento del sud insieme alla Teramo mentre i gialloblu pugliesi promettono battaglia al Tar noi abbiamo problemi sarebbe sciocco non dirlo noi abbiamo problemi di sostenibilità economica bisogna rimettere il pallone al centro bisogna lavorare sulla sostenibilità economica questo è il mio assillo su questo e non sul resto ma anche sul resto si giocherà se si è governato bene o meno abbiamo bisogno che ci venga riconosciuto che noi siamo la Lega dei Pulmini eh sì perché significa che noi andiamo a prendere ragazze e ragazze nelle abitazioni per fare due operazioni insegnare calcio la nazionale italiana e la formazione per toglierli dalla strada e quindi li proteggiamo per fare questo qualcuno ci deve riconoscere questo ruolo perché se non ce lo riconoscono questa calma può diventare anche un po' burra scorsa insomma se tutto dovesse andare liscio il 25 agosto si parte e ancora lo sport non parliamo solo di calcio domani campionato regionale a Giulianova di Atletica la manifestazione presentata in comune darà all'accesso alla fase nazionale di Pescara e ancora i tornei di basket 3 contro 3 Beach Volley inizieranno lunedì questa era l'ultima pagina del quotidiano la città della provincia di Terramo e con questo quotidiano abbiamo concluso la nostra rassegna stampa di mattino 6 io vi ricordo che il TG6 sarà alle 14 e vi auguro una buona giornata grazie per averci scelto grazie per averci scelto